Questa lettura è tratta dal blog Goofinomics, più precisamente dal post intitolato La Svendita a Pude Pagina, datato sabato 13 luglio 2013. Questo post serve a comprendere bene perché si faccia l'austerità. Sapete tutto questo gran parlare di debito pubblico e dobbiamo rimodularlo, dobbiamo ridurlo, dobbiamo vendere le caserme e così via. Ma siamo proprio sicuri? Come sa chiunque si sia occupato in modo professionale di sostenibilità del debito pubblico, il problema della sostenibilità del debito pubblico rimane largamente un problema di crescita del reddito nazionale, cioè se il reddito nazionale cresce e cresce in maniera adeguata, sostenuta, il problema della sostenibilità del debito pubblico rientra. Lo diceva M. Sey Domar nel 1944 e rimane vero ancora oggi per il semplice motivo che questa realtà è riflessa dalla semplice aritmetica del debito pubblico. Si tratta di un rapporto, il rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, al quale si guarda. Si tratta di un rapporto lineare nel numeratore, il debito, e non lineare nel denominatore, una retta contro una iperbole. Tra l'altro, siccome il moltiplicatore keynesiano pare che esista, la dinamica del debito espone a risultati che sembrano paradossali, ma che non lo sono. Può accadere, e regolarmente accade, soprattutto durante una crisi finanziaria, che le politiche di austerità condotte per ridurre linearmente, come abbiamo detto, il numeratore debito, portino a una riduzione del denominatore PIL con effetti contrari da what the ordinary uninstructed person would expect, cioè con effetti contrari da quello che si attenderebbe una persona normale non istruita. Cioè uno pensa di ridurre il rapporto debito-PIL, ma invece, ops, che sorpresa! Ho abbattuto il PIL facendo austerità e il rapporto debito-PIL si è alzato. Vabbè, mi sono sbagliato, capita! Questo in pratica è quello che è successo e lo vediamo dai grafici che riportano sovrapposte le curve che esprimono il rapporto debito-PIL e la crescita dello stesso, cioè del PIL. In questi grafici che riportano questi due parametri economici, ad esempio dal 1994 al 2018, si vede bene che i due scalini di crescita del debito-PIL, che avvennero fra il 2008 e il 2009 e poi fra il 2011 e il 2012, coincidono con i due recenti picchi negativi della crescita, cioè nel 2008 e nel 2012. Quindi Monti cosa ha fatto in definitiva? Con la sua austerità ci ha riportato sopra il massimo storico del rapporto debito-PIL che avevamo raggiunto nel 1994 al 121% del PIL. facendo austerità e cercando quindi di diminuire il debito attraverso la diminuzione del deficit, ha prodotto una caduta del PIL superiore alla caduta del debito e conseguentemente il rapporto debito-PIL è aumentato. Colpa quindi di queste politiche di austerità con cui Monti ci ha riportato per quanto riguarda il parametro debito-PIL ad un rapporto del 127%. E allora questo incremento del rapporto debito-PIL è dovuto in definitiva ad una recessione del tutto inutile se vista nella logica dell'interesse nazionale, che è quella di produrre crescita per abbattere il rapporto debito-PIL. E' a questo punto opportuno che siano chiare due cose. Il problema del debito ce lo siamo causato da soli aggredendo il sintomo anziché la causa della crisi, cioè aggredendo il debito-PIL anziché quello privato-Estero, cioè il fabbisogno pubblico anziché gli squilibri di bilancia dei pagamenti, cioè il debito privato-Estero, e questo per motivi ideologici. Il secondo punto, a questi motivi ideologici, cioè la distruzione dello Stato, che è il numero, che è il nemico, numero uno dei liberisti, dei liberisti de Noantri, si aggiungeva un motivo ben più prosaico, tutelare non l'interesse nazionale, ma quello dei creditori esteri, che ovviamente, ed in parte, legittimamente, ma solo in parte, desiderano essere rimborsati in euro dei loro crediti. Perché i tedeschi vogliono che l'Italia faccia austerità? Qualcuno dirà, perché sono belli, alti e biondi, e soprattutto buoni. In greco, l'insieme di queste due qualità si dice KALOKARATHIA. Questa espressione indica nella cultura greca del V secolo a.C. l'ideale di perfezione fisica e morale dell'uomo. Ma cerchiamo di capire se è così, se effettivamente i tedeschi vogliono che l'Italia faccia austerità perché sono belli e soprattutto buoni. E allora cominciamo col dire che per l'Italia l'euro è una valuta estera, visto che non ne controlla l'emissione, come ci ricorda De Graue. Ora, da che mondo è il mondo una valuta estera? Da dove ce la si procura? Semplice, dall'estero. Cercando di andare in surplus di bilancia dei pagamenti. Cioè di ottenere più pagamenti dall'estero di quanti pagamenti si facciano all'estero. E come si ottiene un surplus di bilancia dei pagamenti? Semplice, o importando di meno o esportando di più o entrambe le cose. E come si ottengono questi due risultati? Beh, per importare di meno basta tagliare i redditi. Allora i cittadini comprano di meno e in un paese dove la grande distribuzione è in mano straniera e si va a grandi vele verso la perdita dell'autosufficienza alimentare e la deindustrializzazione, è chiaro che acquistare di meno significa acquistare di meno all'estero. Voi direte, ma all'estero questo fa davvero comodo? E io risponderò come al solito, non esiste il signor straniero che abita all'estero e parla una lingua straniera. Esistono tanti esteri. Ai produttori esteri. La riduzione delle nostre importazioni non fa bene perché sono le loro esportazioni. Ma all'estero è fatto anche di creditori. Non uno, tanti. Ognuno dei quali se ne frega sia degli imprenditori manifatturieri del suo paese che degli altri creditori del suo paese. Semplicemente e in parte legittimamente rivuole i suoi soldi. E a ognuno di questi creditori il fatto che gli italiani risparmino non acquistando beni esteri per restituire soldi esteri, cioè l'euro, all'estero, fa ovviamente piacere. E per esportare di più come si deve fare? Semplice. Per esportare di più basta tagliare i redditi di nuovo. Il moltiplicatore keynesiano fa il resto. Cresce la disoccupazione. I lavoratori allo stremo accettano retribuzioni inferiori. I produttori nostrani possono abbassare i prezzi e se non vengono spazzati via dal calo della domanda interna, perché i loro lavoratori pagati di meno non possono comprare né all'estero né tantomeno all'interno, allora se non vengono spazzati via dal calo della domanda interna, i produttori nostrani forse dopo un po' ricominciano a vendere all'estero. All'interno ovviamente no, perché il paese nel frattempo si è impoverito. E allora scopriamo che uno stesso strumento, l'austerità, consente così di ottenere due obiettivi, che quindi sono complementari, il calo delle importazioni e poi l'aumento, forse, delle esportazioni. Insomma, l'austerità serve a correggere il saldo estero e più o meno ce la fa. Ci riesce. Non quello pubblico, al quale si sa benissimo che farà enormi danni, per i noti motivi, come abbiamo detto sopra, in termini di rapporto debito-pil. Se tagli la spesa pubblica, cioè il reddito privato, per migliorare il saldo pubblico, poi succede che il settore privato paga meno imposte e quindi i benefici iniziali sono attenuati o annullati. E allora, nel 2012, che è successo? Dopo la cura Monti, siamo praticamente rientrati dal nostro indebitamento netto con l'estero. Il saldo estero è migliorato di quasi tre punti di PIL, mentre il saldo pubblico è migliorato solo marginalmente, perché dopo il risparmio, dopo l'austerità, gli italiani hanno versato meno tasse. Il saldo pubblico è migliorato solo marginalmente, dal 3,6 al 3% del PIL. Questo comunque ha consentito al governo di cantare vittoria, siamo rientrati nei parametri. ma ricordiamo quello che abbiamo detto sopra, il rapporto debito-PIL è arrivato al 127%. Quindi il governo ha potuto cantare vittoria, una vittoria però che andrebbe vista anche alla luce del fatto che altri governi avevano negoziato margini di rientro del saldo pubblico più dilazionati, evitando quindi una recessione come la nostra e un aumento così forte del nostro rapporto debito-PIL. E anche alla luce del fatto che i parametri di Maastricht sono insensati, come abbiamo detto altre volte. In sostanza il governo ha potuto cantare vittoria dicendo che è rientrato nei parametri relativi al saldo pubblico stabiliti da Maastricht, ma nessuno ha messo in evidenza che il miglioramento cospicuo del saldo estero, del nostro indebitamento netto con l'estero è andato sostanzialmente a premiare i creditori esteri e per ottenerlo abbiamo dovuto sopportare un aumento importante del nostro rapporto debito. PIL Allora la morale della favola qual è? Torniamo a Bomba Dicevamo di quelli che vogliono rimodulare il debito, il debito pubblico, oppure vendere caserme per ridurlo. Proposte un po' strane, un po' dubbie, già prima che Reinhardt e Rogoff venissero sputtanati e ora assolutamente insensate. Apriamo una piccola parentesi su quello che avevano detto Reinhardt e Rogoff. Il più importante articolo scientifico a sostegno delle politiche di austerità è probabilmente stato quello di Reinhardt e Rogoff, 2010, il cui successo presso gli uomini politici è stato certamente dovuto alla semplicità del messaggio che diceva La mediana del tasso di crescita nei paesi dove il debito pubblico supera il 90% del PIL è più bassa di un punto percentuale rispetto agli altri. Il nesso causale e implicito in questa asserzione è stato criticato da Ugo Panizza e Andrea Presbitero, 2012. Ciò nonostante l'articolo di Reinhardt e Rogoff è stato citato ripetutamente dai media dell'Eurozona per sostenere l'ipotesi che la scarsa crescita nei paesi del sud dovesse essere curata con il consolidamento fiscale, cioè con dosi di austerità. Di conseguenza l'opinione pubblica è stata profondamente colpita quando Herndon ed altri nel 2013 hanno mostrato che i risultati di Reinhardt e Rogoff erano affetti da errori di calcolo e dall'esclusione selettiva di dati. E ciò è accaduto poco prima che il Fondo Monetario Internazionale nel 2013 ammettesse addirittura notevoli errori nella gestione della crisi greca a base di colpi di austerità, sottolineando che la fiducia non è stata ristabilita, che la recessione è stata molto più profonda di quanto ci si attendesse, che i guadagni di produttività sono stati illusori, eccetera, eccetera. Chiusa dunque questa parentesi su Reinhardt e Rogoff, cioè i profeti dell'austerità, torniamo al nostro discorso, e cioè quelli che vogliono rimodulare il debito o vendere caserme per ridurre il debito pubblico italiano, e abbiamo detto che la cura non è l'austerità. Il problema vero dell'Italia è la crescita. E la crescita non si risolve né con l'austerità né con l'abbattimento del debito pubblico. Il nodo della crescita si risolve favorendo con politiche espansive il rientro del settore privato, il rientro del debito del settore privato, quello che in inglese si chiama deliveraging. Questo lo sanno tutti gli economisti e lo ammettono anche i più ortodossi, ed è ormai evidenza, condivisa, quella che senza un riallineamento del valore della moneta alla forza delle economie nazionali questo obiettivo è impossibile da conseguire. Perché? Perché con rapporti di cambio fissi le politiche espansive semplicemente si scaricherebbero sul saldo estero. Più reddito, più importazioni. Il problema vero, quello dell'indebitamento con l'estero, non sarebbe risolto. Non solo. Se l'Italia si sganciasse e rimborsasse il debito in valuta nazionale, certo, all'estero riceverebbero meno valuta estera, esattamente come nel caso di una rinegoziazione o rimodulazione, insomma di un default mascherato o esplicito. all'estero riceverebbero meno valuta estera come se si trattasse di un default, ma il riallineamento del cambio darebbe invece fiato all'industria italiana, mentre un default no. Sia sui mercati esteri, maggiore convenienza dei nostri beni all'estero, che sui mercati interni, minore convenienza dei beni esteri all'interno. avremo quindi le risorse necessarie per pagare progressivamente il restante debito. Invece tagliare il debito con l'austerità oppure con un default controllato o con una svendita del nostro paese, mantenendo al contempo il cambio fisso, ci espone a un ovvio risultato, quello di una crisi di tipo greco con avvitamento recessivo e successiva palinodia del Fondo Monetario Internazionale, dove la palinodia è qualsiasi scritto o discorso nel quale si ritrattano le opinioni già professate illustrando i motivi del cambiamento. e allora il continuo insistito subliminale messaggio secondo il quale noi dovremmo garantire il nostro debito con il nostro patrimonio è un evidente tentativo di applicazione del metodo Juncker, cioè quello della rana bollita. chiunque parli di vendere qualsiasi pezzo di Italia al capitale estero, fosse pure un etto di sabbia della spiaggia di Maccarese, sta tradendo il nostro paese e lo sta facendo in modo subdolo e con un obiettivo ben preciso, quello di convincervi che siccome abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi, ora dobbiamo vendere i gioielli di famiglia, due luoghi comuni che non vogliono dire niente ma che mirano a uno scopo ben preciso, farvi apparire come naturale la svendita al capitale estero, ad esempio dell'ENI, ente nazionale idrocarburi. Perché non solo il debito pubblico non è la causa ma il sintomo è un sintomo nemmeno troppo preoccupante, ma la privatizzazione tramite svendita di asset pubblici non ha mai in alcun paese in nessuna circostanza curato questo sintomo. L'Italia non è in vendita. Quale creditore intelligente poi chiederebbe a un artigiano di vendere i propri utensili per abbattere poniamo di 10 un debito di 100? Nessuno per il semplice motivo che il restante 90 l'artigiano senza utensili non riesce a rimborsarlo perché smette di lavorare perché non ha gli utensili o meglio un modo per rimborsarlo ce l'avrebbe ancora andare sotto padrone ed è questo che vogliono. Chi vede nel capitale estero la soluzione dei problemi vuole semplicemente la definitiva schiavizzazione dei paesi periferici. L'Italia priva delle sue aziende diventerebbe semplicemente un serbatoio di mano d'opera molto qualificata e sempre più a buon mercato. Chiunque vi parli di vendere ai creditori esteri anche solo un sasso del nostro paese coopera che lo sappia o meno a questo progetto e quindi va isolato e fatto riflettere naturalmente con le buone e che il tema sia questo e che lo scontro sia ormai aperto ce lo evidenzia il coinvolgimento dell'informazione di regime.